Ma salve, bentornati su Relax. Adesso ci facciamo una cosa bella in relax. Ripartiamo dalla foresta, mi piace di più, siamo più tranquilli e duro leggermente di più. Leggermente ho detto eh. Se non vi siete visti l'altro gameplay, dategli una possibilità. Allora, mi tengo il raggio che frizza. Non peraltro, ma perché quando frizza i personaggi non ti mordono. E fondamentalmente questo diventa un punto di estremo vantaggio. Sto diventando tecnico eh. Diventa un punto di estremo vantaggio nel momento in cui c'è tanta gente che ti comincia ad aggredire malissimo. E quindi noi in questo momento specifico non abbiamo troppo bisogno. Ok, Garlic. Assolutamente Garlic. In questa fase il Garlic ci aiuta veramente tanto a farmare. Garlic 1 e Garlic 2. Non direi che Garlic qua veramente riesce a fare la differenza. Oh, idea di massima. Dovrei farcela. Se rimango fermo, li dovrei squagliare tutti. Ok. Effect last one second. Va bene. Proviamo perché non ho... Avanti e dietro. Opposto. Ok. 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 All'inizio è devastante. Poi... Quando si comincia a scaldare la situazione... Oh, venite qua. Questa fase qua. Oh, f*****. Devo farlo così. Ok. 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 Assolutamente l'alloro. Che ci salva un po' la vita. Non cominciano ad arrivare sti cazzi matti. Oh ma porca troia Se non muore quello Non mi ha dolpato manco un cazzo Tra le altre cose Peccato che il raggio Lo spara a patate proprio Vai Un po' di fortuna Ok Comincerà girata la nostra Un po' di fortuna con i cosi qua Ah ecco Oh 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 E può essere veramente Un nasburto Vado all'hack Ottimo Ok Ok Dai Carli Oh 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 Tipo qua è tornato qualcuno E il mio cane Sta dicendo È tornato qualcuno Oh mio dio Eh comunque Cioè Guardate quanta cazzo Quanto mi ci devo impegnato Ciao 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 ok non può metterci così tanto a schiattare capisci? è troppo esagerata ok cooldown reduced by 0-1 super ok i ristretti ormai stanno invadendoci male male però non è possibile che non ci sia un cazzo stanno arrivando ai 10 minuti questi 10 minuti sono tremendi ma succede l'impossibile tra un po' base damage più 1 guarda che guarda se è normale ok ok vabbè riapillo questo tanto rotto tanto tanto rotto oh no è lauro l'ho preso vedete il raggio il raggio mi permette proprio di muovermi in mezzo ok ok mi serviva ok ti sto schiumando questi gains one additional charge quindi in pratica sono doppiamente protetto no non è male poi ci sono i pestrelli grossi che non si battono io vorrei capire questo bianco se ci dà qualcosa di chi è più importante niente 8% more than more than experience più che altro potrebbe essere veramente molto utile oh niente no schiatta mi danno i soldini mi danno guardatemi i soldoni mi danno i soldi mi danno i soldi Guarda qua Niente Non si schiattano E' buono per il danno da Da cosa? Questo? Ma Da aria ma è tutto il resto Ma non ci vorrebbe Tipo una bomba a mano Oh merda Vabbè che questi si fanno easy Quelli dietro che Mo li argino Ok vai ancora Faccio la run Del lucky Magari mi capita qualcosa di buono Ok Ok Un po' Un po' Eh però Oh niente Non ce l'avevo Un diamante rosso Per prenderlo Oh niente Mi servirebbe qualcosa Per squagliare la gente Ma Complesso eh Anche perchè fra un po' Non so manco dove cazzo Sto andando Oh e anche la barra della vita Non è che si carica Guarda qua Va Mi stanno ammantando di tutto La maria tantissima Questo non mi ci voleva Niente Non esce niente Ok Spinace Madò Spinace Mo si Mo mi è andata di stralusso Ho preso qualche Power up Che mi ha fatto riprendere tutto Quanto la maria tantissima Quando è quello Lo veniamo a riprendere dopo Ammaccio a quella puttana Ma come faccio ad andare Dai scudo Riembiti di nuovo Ma dove cazzo Devo andare Cioè farò uscire Da sto cazzo Di robo Oh no 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 Ma come cazzo Facevo Usci da là Come cazzo Facevo Usci da là Mi sembra Bobo Tonga Cazzo Bobo Tonga Ci vediamo alla prossima